Cremonese-Verona termina con un pareggio 1 a 1 questa partita di oggi 30 aprile 2023 ultima giornata, ultimo giorno di aprile bene, l'impegno messo in campo è abbastanza evidente sia per una che per l'altra sebbene però le statistiche parlano leggermente meglio per quanto riguarda la Cremonese rispetto al Verona che gioca secondo le statistiche e quindi portate sul web meglio rispetto, ripeto, al Verona 1 a 1, questo è il risultato finale vediamo nel dettaglio i gol per quanto riguarda la Cremonese il gol arriva nel primo tempo dopo pochi minuti di gioco a firma di Davido, David o Chereke che la mette dentro per quanto riguarda invece il Verona arriva nel secondo tempo il gol a si fa firma di Simone Verdi da segnalare la espulsione, quindi il cartellino rosso a Giacomo Quaiata che nel secondo tempo lo trova probabilmente per colpa di una stanchezza di un stress manifestato ben palesemente la partita termina quindi con il numero pariccio da narratore italiano di Youtube Italia è tutto iscrivetevi, mi raccomando, commentate una buona sera da voi e al prossimo video